Ben ritrovati, come state di nuovo una buona domenica, vi ricordo come sempre di commentare numerosi, lasciare un bel like, iscrivetevi anche al canale di Simone e Simonello, più tardi ci vediamo. Allora ragazzi, aggiornamento per quanto riguarda il mercato, non ci sono nuove ufficialità, siamo fermi a due colpi, due operazioni, cioè Morata e Pavlovich, e nuove conferme, lo vuole a tutti i costi Fonseca, e Milan vuole Abram e continua a lavorare in questa direzione con la Roma. Ricchiesta esplicita di Fonseca garantisce Fonseca, io noto attorno al giocatore della Roma tanto scetticismo, tante perplessità, tanto pessimismo sulla possibilità che possa fare bene al Milan, dall'altra parte Fonseca vede l'uomo giusto da alternare a Dallavano Morata, e quindi forse bisogna fidarsi? Sì, dopodiché secondo me è sbagliato andare a fare magari dei sacrifici dolorosi per Abram, che non mi fa impazzire, o è vero che si dice sempre bisogna dare fiducia al tecnico, il tecnico vuole questo, non quell'altro, fidiamoci. Non vuole Okafor vuole Abram? Boh, io rimango perplesso. Vuole far partire Salemakers per non avere Abram? Non credo, però si diceva anche questo. Vediamo un po' che cosa succede. Abram secondo me paga due cose, l'infortunio, a livello anche di considerazione l'infortunio e i problemi che ha avuto dopo, e poi il fatto che negli ultimi anni non abbia segnato tantissimo e che abbia sbagliato anche gol facili, in maniera piuttosto imbarazzante. Primo anno però, lo ricordo, ha fatto 17 gol in Serie A al suo primo anno, quando era ancora più giovane. Vediamo cosa succede, cosa sono gli sviluppi, io credo che arriverà, lo vuole a tutti i costi Fonseca, e io dico, vabbè, sta facendo vedere cose buone in allenamento, fidiamoci di lui, però non a tutti i costi. A breve chiuderemo anche il sondaggio sulla community di Milanello, in cui vi chiedo cederesto che fa per arrivare a Abram, mi sembra che ci sia abbastanza un plebiscito, però potete ancora votare. Votare, nel frattempo ragazzi, ricordo che mancano 13 giorni all'inizio del nostro campionato, il mercato non può essere ritenuto soddisfacente. Commentate, lasciate un like, iscrivetevi e grazie per l'attenzione, un saluto.